belli trovati oggi andremo a visitare la riserva dello zingaro ci sono tre tipologie di percorso verde giallo e rosso il verde è quello vicino alla costa il giallo è quello un po più interno e il rosso è quello proprio interno sono di diverse distanze il verde è il più corto il più semplice di soli sette chilometri ed è quello con cui si accede più facilmente alle varie calette oggi cercheremo di fare quello considerando anche che il sole qui è forte quindi vedremo cosa è possibile fare e niente ci vediamo qui questo è l'ingresso e quando dove inizia il percorso la macchina si parcheggia lì mattina prestissimo fa già caldissimo pescato conviene per il trekking adesso camminiamo un po verso la prima caletta così la mia compagna si ferma lì e si gode questo bellissimo mare e poi noi proviamo a continuare vediamo dove si riesce ad arrivare fa davvero caldo oggi quindi nessuna aspettativa però proveremo a fare nel nostro meglio e questa è la cartina che danno all'ingresso quindi come vedete ci sono diversi percorsi sentiero facile che quello costiero sette chilometri sentiero di mezza costa sette chilometri e mezzo e in medio sentiero alto 13 chilometri edifici sentiero passo del lupo sentiero bosco sardina scardina sentieri di collegamento sentieri di accesso alle calette strade e garrafine quello che faremo oggi è il sentiero costiero di sette chilometri passi cioè questo qui non tutte le calette sono aperte sembra che ce ne sia una chiusa però la maggior parte sono aperte questa qui cala del luce qui sono stati ritrovati dei resi dell'uomo per storico per cui andiamo vi ricordo che per entrare alla riserva è obbligatorio indossare delle calzature da trail o da trekking è obbligatorio non è consigliato è obbligatorio senza mascherina e calzature da trail o trekking non è consentito l'accesso per cui ricordatevi sempre di portare le calzature adatte e questa è la prima caletta guardate siamo già arrivati noi siamo entrati dalla parte opposta di scopello da san vitolo capo e devo dire che qui si arriva subito alla prima caletta ragazzi questo è uno spettacolo guardate l'acqua adesso prima di partire mi sa che mi faccio un bagno mi aspetterete no? wow sono le 7 e 50 e c'è già gente l'apertura alle 7 e mezza per cui se siete qui alle 7 e mezza è meglio noi siamo arrivati alle 7 40 e già c'era una fila di 5 6 macchine parcheggiate nel parcheggio quindi vi consiglio arrivare abbastanza in anticipo specialmente se vi volete godere questa meraviglia senza troppa gente a dopo questo è quello che bisogna fare per arrivare giù e se non avete la calzatura giusta rischiate di scivolare però ragazzi che spettacolo guardate lì non so se rende con il video è fantastico vai Ale cos'è ti vergogni? la lesse ha avuto un'idea buona visto che c'è gente andiamo a visitare l'altra caletta sperando che ci sia meno gente quindi faremo due calette camminando e dopo di che partiamo ragazzi fa davvero caldo non so quanto sarò in grado di di correre oggi si schiatta dal caldo per cui non lo so la lesse oggi ha voglia di camminare generalmente è la prima caletta appena vedere l'acqua cristallina si lancia guardiamo la cartina allora qui c'è il museo attività marinare cala tonnarella aria attrezzata a cala del luce allora dobbiamo scendere di qua cala del luce è la seconda no si si quella di mezz'ora ok quindi si va a cala del luce invece da questa parte c'è il museo cultura contadina grotta preistorica il museo del nitreccio comunque come vedete ci sono scritte tutti i tempi di percorrenza molto comodo direi ok noi andiamo per cala del luce molto comodo direi ok La guida dice che stiamo per arrivare. Attenzione, ci sono altre indicazioni. Cala Torre del Luzzo, quindi più a sinistra, altrimenti si sale, no? Noi preferiamo andare a sinistra. Penso che comunque questo sia il sentiero verde, quello più facile da 7 km. Per cui seguiamo sempre lungo la costa, che così non ci si sbaglia. Quando una donna vuole andare al mare, non c'è fatica, non c'è dolore, c'è solo mare. Dopodiché ci salutiamo. Ah, non viene a fare il giro con me. Quanto manca, lo sai? No, non lo so. Ah, che guida. Eh, 5 minuti adesso, così, a spanne. Com'è che hai calcolato i 5 minuti? Fa capire. Non so, calcolo. In base a? In base alla montagna. Ah, in base alla montagna. Giusto, giusto. Dobbiamo superare quei due. Perché? Ma che ti fregano. Ci sarà mica solo posto per due. Le fregano il posto. Che bello, ragazzi. Un'altra galletta. Cosa. La montagna. Però, in base alla montagna. In attenzione. Ci sono dei tratti in cui si può correre, ma ci sono decisamente tanti tratti in cui non vi consiglio di correre in quanto ci sono tantissimi sassi ed è facilissimo farsi male, per cui attenzione. Alternate tratti in cui correte e tratti in cui camminate. Poi io non sono uno specialista del trail per cui non lo so, ma vedendo un po' così direi che per me alcuni tratti saranno di camminata e non di corsa. Non sei così gentile? Mi stai dando la paga davanti a tutti. Però la borsa a frigo la porto io, quindi non è giusto. Il peso è qui. Ci siamo! Oh, lei si ferma qui a te. Adesso noi continueremo, vedremo qualche altra caletta, non so se riusciremo a vederle tutte. Vediamo. Così è fattibile fare sotto questo sole. Ma insomma fin tanto che riuscirò ad andare, sarete con me. Ok andiamo andiamo. Andiamo andiamo. Ecco un altro suggerimento, se avete delle scarpette per gli scogli sempre meglio perché comunque qui ci sono sì delle spiaggette ma ci sono anche degli scogli che magari sono meno frequentati, quindi riuscite a farvi un bagno un po' più in tranquillità. Eccoci qua. Wow! ragazzi adesso bagnetto. E noi invece si continua. Quindi adesso siamo qui, sala del lusso. Questa l'abbiamo vista però non ci siamo fermati perché c'era l'Alessia che diceva che qui c'era meno gente, infatti. Beh comunque adesso proseguiamo, anzi proseguo, farò cala Marinella, cala Berretta e poi cala della visa ma mi sa che è chiusa come il signore ci ha detto all'entrata. E poi c'è l'ultima che è cala della capreria che è già all'altezza dell'altro ingresso. Qui dovremmo aver già fatto 7 km. Niente proseguiamo, speriamo bene. Ciao Ale, guardate quante fighi d'India. Bellissimo. Qui c'è una grotta da visitare ma sarà per un'altra volta. E invece no, vi ci porto. E qua mi danno le indicazioni, di qua l'ingresso Scopello, di qua l'ingresso San Vito, dove siamo entrati noi. Per cui dobbiamo proseguire da questa parte, verso l'ingresso Scopello. Qui è dove hanno trovato i resti dell'uomo preistorico. Stiamo in giusto un momento perché c'è caldita Massi. Adesso scendiamo perché io ho davvero paura dei Massi qua. E non è una cosa poco probabile. Per cui andiamo giù in fretta. Non so se avete sentito, ma dall'altra parte è caduto un masso. Quindi fate attenzione, molta attenzione, alla grotta. Bella ma pericolosa, a mio parere. E qui si può corricchiare un po'. Per cui andiamo. E' proprio vicino alla Cala del Luzzo, c'è il Museo della Cultura Pantadina di Pietro Minato. Per cui è veramente vicino se si entra da San Vitolo Capo. Questa è la vista. Rai d'apertura 8-19. Chiuso. Buongiorno. Museo della Cultura Pantadina. Proseguiamo. Quindi dalla prima caletta troverete anche il percorso GPS tracciato. Altro video. Quindi Borgo Cosenza, Sughero, Borgo Cosenza. L'ingresso Scopello. Noi proseguiamo per l'ingresso Scopello. Deve essere la parte lungo la costa, quindi proseguiamo per l'ingresso Scopello e vediamo. Noi proseguiamo per l'ingresso Scopello. Altra cadetta, marinella, siamo nella direzione giusta, e poi riuscite a scoprire, quindi questo vi dice che siamo nella direzione giusta, continuiamo. Sì, c'è la marinella, penso sia da questa parte. Qua si scende e poi, per proseguire, si ritorna indietro e si continua in quella direzione lì. Intanto scendiamo e vediamo cara marinella. Guardate che bello. Ok. Tala Berretta, è Tala della Disa, ma una è chiusa, penso quella della Disa sia chiusa. Quindi andiamo a vedere Tala Berretta. Si scende da qui e poi si risale e si continua in questa direzione. Ma comunque, ricordatevi, avete il track GPS. Andiamo. Attenzione, balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio, per cui fate davvero attenzione. Questa è tra le più piccole che abbiamo visto finora. Ma comunque bellissima. Continuiamo. Questa è Tala Disa, ma oggi è chiusa, infatti non c'è nessuno. Anche questa è bellissima. Continuiamo. Adesso ho cambiato la web pro. Non so se si sentirà bene l'audio. Grazie a Tala, ma oggi è che dovrebbe essere l'ultima, se non sbaglio. Poi le indicazioni sempre, l'ingresso di C&P, dove siamo arrivati, la caberia, il video naturalistico, il centro visitatori, altri sentieri e l'ingresso scoperto. Vediamo la caberia. Bellissima. È vicino a Tala Fabriac, c'è il museo naturalistico, che pensa sempre. No, non voglio che stai scoperti. E qui siamo arrivati. Un'ingresso su. Soppelli. Sì, c'è anche il cavallo. Vediamo un po' d'aria e poi ritorniamo a San Vito. Inglomerate. Inglomerate. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Se volete fare tutto il percorso da qui a San Vito fino a Scopello non è per tutti, soprattutto durante la stagione estiva perché il sole è forte, nelle aree di ombra magari riposatevi un po', e vedrete che riuscirete a fare tutto il giro delle calette. Io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.